Sindaco, sono state prese delle decisioni in questo tavolo interistituzionale? Il tavolo ormai è un tavolo permanente, questa è già una notizia importante, è un tavolo di confronto, sono state prese delle decisioni importanti su vari punti di azione e di coinvolgimento, come avevo più volte auspicato, di tutta la comunità napoletana, quindi intesa come università, come figure professionali, per capire che cosa sta accadendo, per affrontarlo da ogni punto di vista, non limitarsi solamente all'azione chiaramente investigativa e repressiva, una grande coesione istituzionale per lavorare anche per una più forte coesione sociale, perché dobbiamo evitare che su questi temi ci sia una frattura anche all'interno delle comunità, quindi un lavoro molto proficuo, siamo stati due ore a confrontarci, devo dire che stanno facendo dei passi in avanti molto significativi, sia dal punto di vista giudiziario e investigativo, sia dal punto di vista preventivo. Oltre alle forze dell'ordine c'è anche la dirigente scolastica, è da lì che bisogna partire per migliorare la società? Sì, la scuola sta facendo un ottimo lavoro e uno dei tavoli che si formerà a seguito di questo incontro coinvolgerà tutti i dirigenti scolastici, io ho voluto della città metropolitana, perché poi il tema non è tanto Napoli, dove l'attività di prevenzione che è messa in campo è molto forte e in altri comuni si registra una maggiore povertà di interventi sociali, preventivi, vuoi per carenza di risorse, vuoi per altri fattori, quindi questo tavolo ha una proiezione metropolitana, la ex provincia per capirci.